Il principe Corradino del Reame di Zucca Piena, fiaba realistica per capire che se rinunci al ben di Dio che hai per una finta libertà, ti trovi senza il ben di Dio e senza la libertà. Di Benedetta De Vitto Nel bel Reame di Zucca Piena, quando gli asini volavano e Berta filava, viveva un principino di nome Corrado, che tutti però, poiché era piccino, chiamavano Corradino e così faremo anche noi. A Corradino, che amava schiacciare le formiche e uccidere le mosche con la fionda, non garbava l'ordine in cui era costretto a vivere. Storceva il naso al profumo di lavanda delle sue lenzuola, si tediava a vedere che persino i muli erano ben educati a Zucca Piena e sbuffava quando sua madre invitava lui e i suoi fratellini alla preghiera. Con la bocca recitava, con il cuore era a fianco di Gigetto Rompicollo a schiacciare le rane nel pantano. Un giorno però, un brutto giorno, mentre stava Chino sull'acqua torbida dello stagno, non fece in tempo ad acchiappare una raganella che quella gli stampò su una guancia un bacio. Sentì tutto un formicolio, aprì la bocca, ma invece di aiuto disse cra e con un salto si buttò nel gorgo, mentre Gigetto si sbellicava dalle risa e invece di dargli una mano si infilava tutte le dita nelle narici del naso a pescare le cosette suo. Corradino, che la sua era principe, si trovò principe anche tra le ranocchie che vivevano in piena libertà. In un 68 si può dire da leccarsi le dita con lo schiocco per il nostro Corradino che vi si buttò, per così dire, a pesce. Regole non ce n'erano e se c'erano erano talmente confuse che si trovava sempre un mezzuccio per aggirarle. Si poteva dormire tutto il giorno e aver lo stesso i pasti assicurati e anche le bisbocce. Corradino se la spassò alla grande, incurante di tutto e ben felice di essersi lasciato alle spalle la mamma, le duchesse e tutti gli spigoli dei doveri che a zucca piena erano rispettati dai paggi, dai palafrenieri e anche dalle mosche. Che sguazzi, che solluccheri, che scialo signori miei! No, a Corradino non dispiaceva appunto aver perduto il suo tronino al palazzo del re. Il bene era chiamato male nel fosso e non si pregava mai perché Dio lo avevano cancellato dal vocabolario. E tutto andò avanti così per un bel pezzo e Corradino non si accorse per niente che l'acqua del pantano si era fatta più calda. No, 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 no signore, e anzi il bagnetto al vapore quasi gli piaceva ed era diventato per le rane una moda. Chiamavano quel teporino il bagno di bellezza e così, scrollando le zampette, non ci pensarono più. Poi, un mattino di pioggia, portato dalla guazza, si presentò alle porticine dello stagno un grosso rospo, detto il drago, che aveva fatto parlare di sé in giro per i pantani vicini, per essere un tipo meticoloso, un gran signore, tutto d'un pezzo e un tesoruccio. Fu così che il re delle rane, stanco di governare e anche un poco stufo, passò al drago i pieni poteri. Il pantano si fece un poco più caldo, ma non troppo. Il drago, presto, cominciò a legiferare e il mondo, già storto delle rane, si mise a capo in giù. Tutte le rane, da allora in poi, potevano, volendo, farsi libellule. Così, in molte, si mozzarono le zampette e rubarono le ali agli insetti che svolazzavano quieti sulle acque. Via, aprire tutti i confini alle rane immigrate che erano di stazza il doppio di quelle del pantano. Così, in molte, si trovarono in esilio e nessuno se ne curava, presi com'erano a dare il benvenuto alle nuove venute, applaudite anche se erano piene di bitorzoli. Poi, il drago stabilì che le rane maschio potevano dirsi femmine e viceversa, e con Radino iniziò a non capirci più nulla. Un giorno poi, il drago disse che si era scatenata una pestilenza gravissima e che, per sopravvivere, le rane dovevano star ferme per giorni, settimane e mesi nel luogo detto il riposo delle ninfee, cioè il cimitero. E le rane, tutte quante, malate di paura, obbedirono. Le zampe a mollo permanente non le sentivano più, ma il cuore batteva ancora. Si guardavano in cagnesco l'un l'altra per timore del contagio. Il drago, per non sentirle più lamentarsi, tappò loro la bocca con una benda antimalattia. Tiè, zitta e mosca! Poi, il drago dichiarò che per fare la medicina contro la pestilenza occorreva sacrificare i girini. E quelle, ubbidienti, gli portarono gli ingredienti, felici di salvarsi la pelle, uccidendo i loro piccolini. Fu distribuita la medicina, che era un pastrocchio color marrone, che lasciava il segno in modo che si vedesse chiaro e tondo chi l'aveva messa e chi, contravenendo al volere del drago, no. E siccome Corradino dei girini da sacrificare non ne aveva, se ne restò in un canto, color verde brillante, sperando di non darne l'occhio. Oh, ma invece lo videro! E come? E lo randellarono per bene perché senza un guento della vita, cioè della morte, metteva in pericolo il gruppo perché si comportava da antisociale, perché non voleva uniformarsi a quel che facevano gli altri e alla volontà del drago. Tutto ammaccato e mogio mogio, Corradino ripensò al suo lettino profumato di lavanda, alla mamma che lo chiamava alle preghiere, ai muli educati di zucca piena e provò una gran nostalgia. Il cuore gli si strinse in petto e proprio mentre stava per gocciolar la prima lacrima si svegliò. Era nel suo bellettino a zucca piena e tra le braccia stringeva un ranocchio verde, dono della tata che entrata in quell'istante gli disse, oh via, svegliati pigrone, mica vuoi essere come quel ranocchio che stringe al petto? No signore, rise tra sé Corradino e il giorno successivo tuffò le mani nello stagno, estrasse un grosso rospo nero e lo portò ai confini del regno, nel deserto delle lucerto delle viola. Così finiscono nelle fiabe e anche nel libro della sapienza i cattivoni che usurpano il potere che è dono del Signore.